Va via, ma non per la sua presunta mafiosità, la ditta camassa ambiente che gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti a Rosario. Accusandolo di un'escalation di disservizio e inadempienza, il comune ha rescisso il contratto con l'impresa che operava, sebbene gravata da un'interdittiva della prefettura di Bari. Proprio il particolarissimo occhio di riguardo usato a noi confronti della società per azioni, alla quale è stato consentito di lavorare con a capo dei commissari, non le ha risparmiato la scura del comune. Il sindaco Giuseppe D'Ai, in una lettera aperta ai cittadini, ha parlato di un servizio abortito sul nascere e mai decollato. Il primo cittadino è sembrato incolpare la precedente amministrazione comunale ed ha annunciato l'indizione di una nuova gara. Mai facile la collaborazione tra l'ente e camassa ambiente, essa è peggiorata a partire dall'incendio di natura dorosa che ha distrutto i nove mezzi della ditta. Un attentato ancora senza colpevoli che però non ha rallentato il servizio che l'impresa svolge, con evidente virtuosità, nelle altre cittadine che fanno parte del bacino, Cinque Frondi, San Ferdinando e San Giorgio Morgetti. L'altolà rosarnese, che potrebbe essere fronteggiato con un ricorso al TAR, sta comportando un forte rallentamento nella raccolta dei rifiuti. Il sindaco ha annunciato la prossima apertura, nel mese di giugno, dell'isola ecologica, un'operazione attesa da tempo che questa volta può avvenire con la collaborazione del Consorzio Conaghi. Rimane però il mistero di una ditta che solamente a Rosarno nessuno vuole più. Agostino Pantano per la CNews24.